Piegge incessanti, incidenti, strade allegate, buchi ovunque, qualche vecchia casa crollata. Anche oggi Catania deve fare i conti con una giornata di maltempo e si tratta di un conto molto salato. Questa è la situazione in via 31 Maggio. Qui invece ci troviamo in via Volturno. Oltre un centinaio alle richieste di intervento arrivate al comando dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale negli ultimi due giorni. Abbiamo avuto allegamenti e siamo intervinti le nostre pattuglie insieme alla protezione civile nella zona di Piazza Roma che sono saltati dai tombini, esattamente alla via Calamatta. Ma anche qualche altro allegamento c'è stato. Stamattina c'è stato un crollo di alcuni edifici in via Volturno, zona Cibali, ma complessivamente la situazione è al momento sotto controllo. Strade allegate e impraticabili a San Giovanni Galermo, Montepo e Cibali. Traffico rallentato sul viale Mario Rapisardi e in corso indipendenza. Situazione sotto controllo invece a Librino, San Giorgio e Villaggio Goretti, in via Tennea e Fontana Rossa. Centro storico e pescherie vuote con i venditori che smontano le bancarelle prima del previsto. Il livello di guardia resta comunque alto e con le scuole catanesi rimaste aperte scoppia la polemica sulle condizioni di tubature e tombini sotterranei. Ma si può fare quello che si è già detto che si doveva fare negli anni passati. Una semplice manutenzione ordinaria intanto che va fatta nei tempi e nei modi corretti, nei periodi giusti, significa non nel periodo invernale ma nei periodi pre-invernali. Nei tempi e nei modi più corretti, la pulizia dei cordini, la pulizia delle catitoie, fatte nel periodo giusto luglio, agosto, settembre.